Diretta pomeridiano amici 2019 scopri chi sono i 12 allievi che otterranno il banco di canto e di ballo, le sfide per essere ammessi nella scuola, i concorrenti eliminati e gli ospiti. Amici 2019 pomeridiano, diretta terza puntata classe formata, eliminazioni e cosa succede il lung grado dicembre oggi è andata in onda diretta del pomeridiano di Amici 18. Durante questa terza puntata di Amici 2019 sono stati assegnati gli ultimi banchi di canto e di ballo rimasti e finalmente abbiamo assistito alla formazione della classe. Gli aspiranti cantanti e ballerini hanno ottenuto un posto tramite le sfide dirette, con le quali dovevano convincere i professori di ballo Timor Stevens, Alessandra Celentano e Veronica Peparini e Canto Rudi Zerbi, Alex Britti e Stesh, che hanno deciso quali concorrenti sarebbero potuti entrare nella scuola di Maria De Filippi, insieme agli allievi già ammessi, Mamele, Ariadne, Tish, Giordana e Miguel. Avete perso qualche momento importante della puntata di oggi? Allora recuperate i momenti più belli della puntata con il nostro live della diretta del terzo pomeridiano di Amici 18. Esclamativo ecco la classe di Amici 18 scoprite i ballerini e i cantanti entrati nella scuola Amici 2019. La classe completa ecco chi sono gli allievi di canto e di ballo entrati nella scuola Amici 18 terza puntata pomeridiano live Amici 2019 live terza puntata 1600. . La sfida per il banco viene vinta da Giordana. La puntata finisce qui. Amici 2019 live terza puntata 1550. Inizia Giordana con formi double. Poi si è esibita la sua sfidante con una cover suonata con basso. Giordana risponde con chiedo di chiedere. Amici 2019 live terza puntata 1545. Ha perso la squadra di Giordana. Rudy chiede una sfida immediata per Giordana per togliersi la tranquillità che ha accumulato in questi giorni. Rudy vorrebbe assegnare un compito a Mameli perché si è rifiutato di cantare alcune canzoni assegnate dal serbi, per questo motivo dovrà preparare Zingara di Iva Zanecchi. Giordana viene sfidata da Noemi e giudicherà. Paolo Giordano. Amici 2019 live terza puntata 1540. Mogli balla un pezzo preparato da lui. Timor gli ha dato 8 per la creatività. Vince la sfida Mogli. Ora Mameli contro Alberto. Alessandra ha dato 8 ad Alberto e Timor 8,7. Sorpreso dal fatto che sappia cantare anche brani di musica leggera. Stash gli ha dato 10. Vince infatti Alberto. Amici 2019 live terza puntata 1530. Vengono composte le due squadre una è di Giordana e una è di Disho. La prima sfida a squadre è Giordana contro Disho. Britti è contento di entrambe le allieve di canto. Rudy invece preferisce Giordana. Tra le due cantanti vince Disho. Sifda di ballo Marco squadra di Giordana contro Mogli squadra di Disho. Marco balla il passo a 5 di Timor, che dice che per quanto sia stato pulito, mancava tanto di sentimenti e sapori. Il suo voto è stato 5,5. La Celentano gli ha dato 4 e Peparini 8,5. Amici 2019 live terza puntata 1520. L'ultimo banco rimasto nella scuola di Amici 18 è Giussi. La classe di Amici 2019 è finalmente formata. Maria fa entrare una ballerina, Anna Maria. Lei è stata vista dai prof di ballo ed è qui per esibirsi otterrà un banco o verrà eliminata. La commissione decide di darle un banco immediato. Amici 2019 live terza puntata 1520. Sono rimasti due banchi. Se li giocano Gefeo, Yamette e Giussi. Giussi balla una coreografia di Garrison. Yamette e Gefeo hanno portato i loro inediti. Il primo ad ottenere il banco è Gefeo. Amici 2019 live terza puntata 1500. Sfida di canto Giacomo Eva contro Alessandro Casillo e Elinora. Giacomo ha portato la cover di una canzone di Alex Britti per far vedere al prof di aver capito la lezione dello zero della scorsa settimana. Avrà convinto il prof di canto? Ottiene il banco di canto Giacomo Eva e Alessandro. Elinora è stata eliminata. Prima di andare via chiede ad Alex Britti come mai le ha dato un voto basso.amici 2019 live terza puntata 1450. I professori hanno deciso che Alberto ottiene un banco immediato quindi diventa anche lui un allievo di Amici 18. Nuova sfida. Diretta di ballo Mogli vs Bad Manti. Il prof Timor Stephens gestisce la battle tra i due ballerini di freestyle. Mogli ottiene il banco di ballo. Amici 2019 live terza puntata 1440. Nuova sfida di ballo Daniele contro Marco. Marco esegue una coreografia della Peparini. Daniele esegue una coreografia di gruppo. Marco ottiene il banco e diventa il terzo ballerino di Amici. Daniele è eliminato. Maria spiega che continuano i casting. Un ragazzo in particolare ha convinto Stash. Alberto è un cantante lirico e si esegue con il pianista Bruno Micoli, maestro della Scala di Milano. I professori possono dargli direttamente un banco in aggiunta e non sottolineare.